Malattie circolatorie, malattie cardiache, diabete. Una cattiva alimentazione può compromettere e minacciare seriamente il tuo stato psicofisico. Allora anche a tavola fa la scelta giusta. Non mangiarti la salute. Decidi di avere uno stile di vita sano. Presta attenzione ai cibi che ingerisci e alla loro quantità. È un'utile precauzione per tenere lontano il rischio di ammalarsi. Mangiar sano vuol dire soprattutto mantenere una buona salute. Il vostro medico di famiglia e il pediatra del vostro bambino possono darvi giusti consigli. È una campagna a cura dell'Unità di Educazione alla Salute dell'azienda Unità Sanitaria Locale 8, Siracusa.